era importante vincere il derby e per quanto il daybreak abbiamo portato a casa la vittoria sì non era partita facile sicuro abbiamo giocato bene primi due set però si vedeva un po di difficoltà loro poi hanno ricominciato hanno cambiato un po la squadra quindi terzo set è cambiato tutto anche il polazzetto era un po diciamo era amoroso già all'inizio però quando sei avanti non si sente così poi quando siamo eravamo in difficoltà è cambiato anche questo quindi poi quarto set eravamo sempre nel tardo che arrivamo arriviamo arriviamo a 23 23 però non siamo riusciti a fare punti abbiamo fatto anche un po di errori alla fine quindi potevano vincere anche loro 32 questo è giusto però sono molto contento che tutte le partite non 4 su 5 partite che erano che sono andate in quinto set abbiamo vinto quindi questo dimostra anche una squadra dopo 22 che sei in difficoltà che poi che puoi vincere la partita senti il coach dice sempre che siete giovani no che dovete crescere però ti senti che un po siete cresciuti perché vincere queste partite significa anche mantenere come dire attenzione metterci coraggio io dico che sicuro dobbiamo crescere ancora in questi momenti perché quando siamo 2 2 0 avanti dobbiamo finire la partita perché lo sappiamo che siamo più forti di loro quindi dobbiamo chiudere la partita perché adesso perdiamo questi punti che sono molto importanti per noi però come ti ho detto anche loro hanno giocato bene non era partita facile però molto importante che alla fine vittoria nostra perché questo alla fine conta se vinci o perdi però cambiano due punti quindi dobbiamo lavorare però che non molliamo il terzo set perché poi partita diventa molto difficile grazie